Alessandra Mastronardi si è sposata. L'attrice, 37 anni, è andata a nozze nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri nel pomeriggio dell'8 luglio. Emozionatissima, ha detto sia l'uomo della sua vita Gian Paolo Sannino, professione dentista. Davanti a circa 150 ospiti. La decisione di andare a nozze l'attrice l'aveva rivelata per la prima volta a noi, sulla copertina di Vanity Fair, raccontando gli sliding doors della vita e l'amore ritrovato. Alessandra e Gian Paolo, infatti, si erano già conosciuti e innamorati 17 anni fa, per poi perdersi e rincontrarsi. Questo, secondo le parole di lei, il loro primo incontro, avevo 20 anni e appena finito la serie dei Cesaroni. Gian Paolo, che ha 4 anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto, ti faccio conoscere l'uomo della tua vita, ma non te ne innamorare. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui, solo che eravamo giovani, Gian Paolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile. E poi? Ci siamo rincorsi per una vita. Ogni tanto una telefonata o un incontro per caso, senza mai perdersi davvero del tutto, c'erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c'erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso. Alla fine, il tempo giusto, l'ultima volta che ci siamo incontrati per caso, invece, abbiamo ripreso a sentirci, poi ci siamo rivisti al matrimonio degli amici che ci avevano fatto conoscere, due estati fa, e non ci siamo più lasciati. È stato un tal sollievo. La proposta di nozze è arrivata a Positano, avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena in uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni 50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando, però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L'anello non l'ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un'ora. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.